pronta? come no? allora cognome e nome? signore di chiedere bene, soprannome? in palestra anche fuori? cicciotella, in palestra e fuori gini gini quanti anni hai? quasi 10 che classe fai? quattro elementare la tua materia preferita? italiano la materia che non ti piace? grazie questa era più sicura però il tuo animale preferito? il tuo animale preferito? il tuo animale preferito? tutte e due? ma ce l'hai? sì cos'hai? un gatto di 21 anni che l'ho tornato fa e un cane ok il tuo colore preferito? è blu 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 azzurro ok il tuo cibo preferito? tortellini tortellini oh una che non dice la pizza e che sport fai? una sede da quanti anni? che sono le 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 in un in tutto no no in tutto tre e mezzo tre e mezzo e che sei con noi? da sette anni perché hai scelto proprio la ginnastica? perché quando eravamo in una pizzeria una pizzeria stava facendo delle ruote allora mi sono pensati a farle e mi sono iniziata a farla allora non ho portato il passio e ti è piaciuto subito? ok e quante ore ti alleni adesso? 15 e 50 15 e 50 tre ore e dieci al giorno? cinque giorni? sì ok e il tuo attrezzo preferito? battaglia e quello che non sopporti? trave trave perché? bene così va bene elemento più difficile che sai fare in assoluto? che è un po' di città come ti senti quando sei in gara? ho un po' di ansia e hai dei portafortuna? sì come ti senti in palestra quando non ti viene qualcosa? ci riprovo perché non ti viene e ti viene sempre tutto alla fine? dipende più o meno ok che rapporto hai con la Chiara? andate d'accordo? sì ok ma adesso ti faccio una domanda però visto che tu sei arrivata da noi perché vedevi i video così no? ti eri fatta un'idea della Chiara? più o meno sì ok ok un tuo pregio? che so ascoltare bello che bel pregio e un tuo difetto? che so disordare mamma è contentissima in casa sì ok fai un saluto matto? ciao ciao bye vedi ti vediamo nel prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.